Sono 15.51 del 10 febbraio 2024, mi trovo a via dei Benedettini, centro storico del Duco de Marsi, si trova ai piedi della montagna. Guardiamo il paesaggio sottostante, ecco qui, qui c'è un ampio piazzale, ci sono anche le panchine. E questa è l'area di Pucenze, è stata 40 ore, oggi piove, non molto, però piove. Oggi è l'area di Pucenze, ma questa pioggia. E quindi qui si scende, c'è sempre un passaggio per un'ala, per per cento le con le altre.